È un periodo difficile per tutti, lo sappiamo, lo è ancor di più per la scuola. Difficile e delicato questo tempo, soprattutto per gli studenti chiamati a scegliere per il futuro. Noi vogliamo parlarne con un dirigente scolastico e con un professore, un docente di informatica, già pronti in collegamento Skype. Bentrovato Rocco Davolio, il dirigente scolastico, bentrovato, benvenuto su Padre Pio TV. E Michelangelo De Bonis, docente di informatica. Eccoci qua. Un cordiale saluto anche da parte mia. Grazie, per noi è un onore averla preside. Intanto lei dirige l'istituto tecnico di maggio di San Giovanni Rotondo, ma ovviamente vogliamo un po' aprire la finestra sul mondo della scuola. Queste difficoltà che sta vivendo da un anno a questa parte è la grande forza che ci mette con la didattica a distanza, in cui tutti i docenti si sono impegnati. Vogliamo chiamarli, possiamo farlo sicuramente, gli altri eroi di questa pandemia. È d'accordo? Sì, sono d'accordo perché è chiaro che noi abbiamo ridisegnato un poco quello che è la scuola in presenza con una modalità molto diversa, grazie all'applicazione delle tecnologie informatiche che ci permettono di proseguire il lavoro che normalmente viene fatto scolasticamente parlando in presenza anche da casa. E qui il merito innanzitutto dei ragazzi e anche delle famiglie perché veramente con tanta, tanta appnegazione e con tanto rispetto verso la scuola si collegano quotidianamente. Non è facile per loro, ma anche il lavoro e l'enorme sforzo che fanno i docenti in questo periodo è da lodare. L'ho sempre detto perché noi siamo sempre lì a non perdere un'ora di lezione. Quindi questo ci fa onore, lo dico sempre, i docenti, lo dico anche a me stesso, all'amministrazione ma soprattutto a quelli che vengono definiti poi nel mondo della scuola i cosiddetti stakeholder per eccellenza e cioè gli alunni e i genitori. E il merito di questa didattica a distanza è sicuramente anche di chi dirige l'intero istituto. In questo caso stiamo parlando del nostro dirigente in collegamento Skype. Io vado avanti proprio perché voglio sapere se ci sono state delle problematiche su questo livello al professore di informatica Michelangelo De Bonis. Quali difficoltà hanno riscontrato i docenti a questo punto? Perché gli studenti, sappiamo, sono un po' più avvezzi alla tecnologia. Sì, in effetti è vero, i ragazzi sono quelli che vengono chiamati anche nativi digitali quindi sono un po' più avvezzi e un po' più portati all'uso soprattutto delle applicazioni. Però la parte più difficoltosa dei docenti non è stata quella di adeguarsi ovviamente allo strumento tecnologico ma tanto quello di dover riprogrammare, ripensare la propria attività didattica attraverso uno strumento perché noi veniamo da una formazione che non è solamente la nostra della formazione di didattica in presenza ma è una formazione che abbiamo avuto anche come alunni dove abbiamo sempre avuto la possibilità del contatto umano, della relazione personale per poter effettuare la didattica. Il dover accedere a uno strumento e dover usare degli strumenti totalmente digitali e quindi eliminando tutto ciò che riguarda l'analogico porta a ripensare ovviamente la modalità di effettuare la didattica all'interno di un'ora di lezione e anche le pause oppure i momenti da dedicare alla socialità, allo scherzo vanno comunque ricalibrati e ripensati. Eh sì, questa è una difficoltà riscontrata sicuramente anche da altri colleghi. Noi abbiamo scelto questo periodo anche perché è il periodo in cui si fa una scelta e questa scelta la fanno i ragazzi della terza media che in questo momento stanno frequentando la terza media la scelta per il prossimo futuro. Un istituto tecnico l'abbiamo scelto apposta perché è forse quello che offre più possibilità di lavoro dopo i cinque anni. Preside, sicuramente non esistono scuole di serie A e scuole di serie B ma un istituto tecnico ha una marcia in più sicuramente. Sì, l'istituto tecnico va inquadrato in quella che è stata definita una rivoluzione epocale per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado che è avvenuta con la riforma del 2010. Infatti gli istituti tecnici più di ogni altro indirizzo di studio sono quelli che si sono adeguati maggiormente a quelli che sono stati gli orientamenti dell'Unione Europea attraverso i quaderni bianchi del 1993 dell'Or e del 1995 dell'Accressum che per la prima volta hanno dato un input agli stati membri dell'Unione Europea di quello che era il concetto di istruzione unito per la prima volta al concetto di lavoro. Quindi due binomi fondamentali che fino al 1993 andavano per vie separate quindi la scuola da una parte e il lavoro dall'altra. Invece no, quindi l'Unione Europea ci è venuta incontro dicendo a tutti gli stati membri che andava fatto qualcosa e per cui se noi teniamo in considerazione ad esempio un recente rapporto, il rapporto Excelsior di Union Camere ed Ampal ci mostra come in questi anni futuri le competenze più importanti che saranno richieste nel mondo del lavoro saranno soprattutto le competenze digitali perché diventano fondamentali per ogni percorso lavorativo per cui l'utilizzo del digitale, l'utilizzo di internet, il saper programmare dei software innovativi sono alla base dei lavori futuri. Ad essi naturalmente si accosta anche l'area dell'ecosostenibilità quindi attraverso ad esempio l'energia pulita come l'energia fotovoltaica e l'energia eolica che trova ampio spazio anche in settori dei tecnici come ad esempio l'indirizzo di elettrotecnica e di elettronica che sono appunto appropriati a questo nuovo modo di vedere l'ecosostenibilità per il futuro. Così pure l'indirizzo economico molto importante non soltanto a livello locale ma anche a livello globale quindi lo studio di discipline quali economia, quali finanza, quali diritto ma insieme anche alla conoscenza delle lingue straniere che rappresentano una delle otto competenze chiave raccomandate appunto dal Consiglio dell'Unione Europea e dallo stesso Parlamento dell'Unione per quanto riguarda le competenze di base che ogni cittadino europeo deve possedere a livello proprio di cultura personale quindi importante da questo punto di vista così anche l'altro settore importante che è il settore della salute lo abbiamo vissuto proprio in questo periodo, in periodo pandemico in cui c'è necessità di reperire medici, di reperire infermieri, di reperire quindi persone a livello socio-sanitario e quindi anche gli istituti tecnici da questo punto di vista sono molto attrezzati attraverso l'indirizzo di biotecnologie sanitarie. Preside, in questo momento c'è il famoso Open Day ma chi è che influisce sulla scelta? Noi mostreremo anche il sito dell'Istituto Tecnico di Maggio dove c'è la possibilità anche di visitare virtualmente l'istituto, la struttura, però una domanda un po' più sentimentale se vogliamo chi è che influisce sulla scelta della scuola, sui ragazzi, la famiglia, gli amici, i desideri che hanno per il futuro vista l'esperienza che ha. Allora questa è una fase molto importante perché è chiaro che stiamo parlando di ragazzi che hanno 14 anni di età, per cui è chiaro che l'influsso è sicuramente quello dei genitori ma io devo dire che c'è una forte attenzione anche su quello che è l'offerta formativa del territorio per cui il territorio diventa molto importante e molto basilare in questo contesto, per cui ci sono diversi fattori è chiaro territorio, famiglia, ragazzi, è chiaro che il gruppo dei pari fa tanto ma dobbiamo tenere presente appunto quello che dicevo prima, il percorso di studi e soprattutto il progetto di vita di ogni ragazzo che va costruito giorno per giorno in funzione di attività lavorative future. Il nostro istituto come istituto tecnico già dopo i 5 anni dà dei diplomi che possono permettere agli studenti che frequentano questo indirizzo di studio di mettersi direttamente nel monto del lavoro però nulla toglie agli stessi studenti di proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie perché non c'è nessuna negazione a qualsiasi forma di università per cui ecco l'istituto tecnico secondo il mio punto di vista si pone proprio come istituto con i diversi indirizzi all'altezza per le sfide del futuro. Una bella formazione completa, poi ha una posizione strategica l'istituto tecnico di maggio a San Giovanni Rotondo è facilmente raggiungibile anche dal lontano Gargano perché comunque come territorio è vasto. Sì, infatti io chiamo l'istituto tecnico di maggio come scuola del territorio perché oltre naturalmente ai san Giovanni che frequentano questo istituto abbiamo molti studenti che provengono da cittadini arimitrofe come ad esempio Montesandancero, Manfredonia, Mattinata, Carquino, Cagnano Varano, San Nicantoro Garganico, San Marquellamis, Rignano Garganico addirittura abbiamo anche delle unità che vengono da Vieste, Sansevero, Cerignora. Quindi questo fa onore al nostro istituto perché è chiaro che si pone come istituto del territorio. Tante strutture moderne e innovative, professor De Bonis c'è l'open day, in questo momento tutte le informazioni si possono ritrovare e recuperare sul sito istituzionale istitutodimaggio.it Noi vogliamo ricordare come si procede adesso perché la modalità è cambiata, cosa deve fare un ragazzo che vuole iscriversi all'istituto tecnico di maggio di San Giovanni Rotondo? Sì, la procedura è cambiata perché oramai da qualche anno le iscrizioni si svolgono totalmente online e quindi i genitori o comunque il tutore dell'alunno deve prima di tutto iscriversi sul sito del NUR dell'istruzione che è www.iscrizioni.istruzioni.it In questa fase verrà chiesto di iscrivere il tutore, come già detto, e poi successivamente alla fase di registrazione c'è la fase di iscrizione vera e propria. Bisogna ricercare il codice meccanografico, il codice identificativo della scuola e questo codice verrà inserito all'interno di un percorso guidato, c'è un software che guida il genitore o il tutore all'iscrizione vera e propria. È una fase nuova che serve sia per sgravare le scuole dall'attività di iscrizione di molti utenti, ma soprattutto di avere velocemente iscritti all'interno del sistema informativo del NUR tutti i dati che rappresentano gli alunni che si iscrivono nelle varie discipline. Nella nostra scuola, ovviamente, ma questo vale per tutte le scuole d'Italia, vengono comunque dati dei punti di contatto con la segreteria in modo tale che chi dovesse avere problemi di connessione o problemi vari di accesso al sito può comunque rivolgersi in segreteria ed avere un aiuto e una mano per poter perfezionare il processo di iscrizione. Bene, insomma la segreteria è come un pronto soccorso scolastico, ma poi ci sono tanti docenti disponibili e attenti a venire in aiuto. Preside, io la ringrazio, prendo anche un po' lo slogan che è presente sul sito, Pensa al tuo domani, questo invito lo rivolgiamo soprattutto ai giovani che sono in questa fase di crescita ma anche di scelta. Una domanda che va un po' più sul personale, Preside, com'è essere dirigente? È una bella domanda, essere dirigente è come dire iniziare con l'attività, perché noi dirigenti scolastici il nostro cammino è quello che parte da docenti della scuola, quindi il percorso è quello, poi piano piano uno si innamora di quella che è l'organizzazione e la gestione della scuola, anche se ultimamente diventa difficilissimo gestire tutte le situazioni all'interno di contesti così complessi come quella di un'organizzazione scolastica che viene definita appunto un'organizzazione complessa a legami deboli, in quanto ti ritrovi poi a passare da docente a dirigente ma a gestire soprattutto poi i rapporti interpersonali con i tuoi colleghi che sono stati, che arrestano sempre i docenti e quindi è qui non la difficoltà ma il saper instaurare quei rapporti giusti che permettono di instaurare all'interno di ogni contesto educativo quella leadership trasformazionale che permette appunto alla scuola di poter andare avanti con il supporto anche di altre entità come i servizi ausiliari e amministrativi che sono un supporto veramente valido nel nostro lavoro quotidiano. E' comunque un lavoro di squadra, non chiedo al professor De Bonis com'è essere docente di informatica perché lo si vede insomma dal volto, sorride, quindi tutto bene, tutto a posto, tutto sotto controllo soprattutto in questa fase così delicata. Io vi ringrazio. Ce la mettiamo sempre tutta affinché sembri tutto a posto. E' così, è così, anche da fuori si vince. Grazie ancora, buon lavoro preside, buon lavoro professor De Bonis a tutta la categoria degli insegnanti, i nostri, anche i nostri eroi sono diventati. Pensa al tuo domani, questo è l'invito a tutti i ragazzi pronti per avviarsi nel proprio futuro, insomma con successo. Grazie ancora. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.